Benvenuti, questo è un video dedicato all'approfondimento della normativa regionale applicabile alle associazioni fondiari e forestali. La realizzazione di questo video fa parte delle attività previste dal progetto Life Climate Positive, progetto cofinanziato dall'Unione Europea per valorizzare i servizi e i prodotti generati dalle foreste, condotto da alcuni tra i maggiori esperti italiani nel settore forestale e dalla regione Lombardia. Il video riprende alcuni dei temi trattati nelle linee guida sulle associazioni fondiari e forestali, dette anche ASFO, in Lombardia. Questo secondo video in particolare è dedicato agli aspetti civilistici delle associazioni fondiarie e forestali. Questo è il secondo di cinque video dedicati alle ASFO che tratteranno vari aspetti di queste associazioni, descrivendone i principali elementi legali, gestori e fiscali, sempre con un taglio pratico ed operativo. In questo secondo video si parlerà degli aspetti civilistici delle ASFO e si forniranno le prime informazioni utili al riguardo. Il video ha lo scopo di fornire un quadro introduttivo generale sulle principali previsioni del codice civile in materia di ASFO a beneficio di tutti i soggetti privati e pubblici interessati a questo strumento. Tutti i video saranno tenuti da esperti tecnici selezionati dalla regione Lombardia. Io sono Giovanna Landi dello studio legale Landilex, avvocato esperto in diritto dell'ambiente. Un ASFO è un'associazione che è un istituto disciplinato dal codice civile italiano come un raggruppamento di persone organizzato per il perseguimento di uno scopo comune che va al di là degli interessi di ciascun associato ma ha una portata più ampia, ossia detta superindividuale. Tra le associazioni vi sono ad esempio le associazioni fondiarie, ossia quelle associazioni che si occupano della gestione collettiva dei terreni degli associati allo scopo di ricostituire la proprietà fondiaria e recuperarne la redditività. Le ASFO sono una particolare tipologia di associazioni fondiarie in quanto prevedono la gestione collettiva dei fondi con la particolarità che tali fondi devono avere le caratteristiche descritte dalla norma, ossia aree boschive, agricole, terreni abbandonati, incolti o in attualità di gestione. Si anticipa qui che la gestione collettiva dei fondi da parte degli associati non comporta alcun trasferimento di proprietà degli stessi nei confronti dell'associazione o di terzi. Una particolare caratteristica delle ASFO è quella per cui la legge determina direttamente i suoi scopi. All'articolo 31 Septies della legge regionale Lombarda 31 del 2008 infatti leggiamo che lo scopo dell'ASFO è quella di gestire in maniera associata le piccole proprietà terriere secondo buone pratiche agricole, perseguendo gli obiettivi elencati al comma 2 e qui riportati in questa slide. Li abbiamo già presentati in realtà nella videopillola numero 1 ma li riportiamo nuovamente qui in quanto tali scopi dovranno essere ripresi negli atti costitutivi dell'associazione che andremo a vedere ora, fermo restando che insieme a tali scopi potranno esserne aggiunti degli altri specifici per la singola associazione sulla base delle esigenze dei proprietari dei fondi, per cui avremo ad esempio delle ASFO che si occuperanno prevalentemente di alcune attività agricole, altre della valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico e così via. Ricordiamo comunque che la categoria delle associazioni cui le ASFO appartengono non possono avere scopo di lucro, con la conseguenza che tutti i proventi delle attività svolte non potranno considerarsi come guadagni degli associati, ma andranno sempre reinvestiti per gli scopi della ASFO stessa. Le associazioni, secondo il codice civile, possono essere riconosciute o non riconosciute. Questa decisione può essere presa dai fondatori di un ASFO e vediamo brevemente quali sono le principali differenze tra le associazioni riconosciute e non. Le associazioni riconosciute innanzitutto hanno personalità giuridica, separata ed indipendente quindi da quella dei singoli associati. La personalità giuridica si ottiene con un procedimento di carattere amministrativo che si svolge dinnanzi alle autorità amministrative competenti per territorio in rapporto alla sede dell'associazione, secondo la normativa di cui è il DPR 361 del 2000. Il procedimento di riconoscimento ha ad oggetto la verifica di tutti i requisiti richiesti per legge. Tra questi evidenziamo innanzitutto l'obbligo di una dotazione patrimoniale adeguata alla realizzazione dello scopo. L'adeguatezza dovrà essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda di riconoscimento. Non ci sono dei parametri fissi per definire quanto il patrimonio debba essere adeguato, ma dovrà essere valutato caso per caso sulla base dello scopo o degli scopi individuati, come abbiamo visto appunto nella slide precedente. Contrariamente alle associazioni riconosciute, quelle non riconosciute non sono dotate di personalità giuridica né di autonomia patrimoniale e quindi non sono soggette a criteri di adeguatezza. Tuttavia deve sottolinearsi che nella prassi alle associazioni non riconosciute è attribuita comunque una capacità giuridica generale, come ad esempio quella di poter agire in persona dei propri associati e quindi di fatto le differenze tra le due tipologie di associazioni si assiottigliano nella realtà. Le asfori conosciute dovranno essere costituite mediante apposite formalità previste dalla legge, ossia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata sempre innanzi ad un notaio. Tali atti dovranno riportare le indicazioni previste dalla legge, tra cui gli scopi di cui abbiamo parlato prima. Lo scopo di un'asfori conosciuta deve essere in ogni caso lecito, ossia conforme alla legge e possibile dal punto di vista della sua realizzazione e, come abbiamo visto prima, deve avere un patrimonio adeguato allo scopo. La caratteristica dell'adeguatezza del patrimonio, aggiungiamo, deriva dalla necessità di tutela di eventuali terzi creditori che abbiano rapporti con le associazioni e che potranno eventualmente essere soddisfatti solamente sulla base del patrimonio dell'associazione stessa. Le asfono riconosciute non dovranno rispettare i criteri formali previsti sopra, a parte ovviamente avere scopo lecito e possibile. Si possono ipoteticamente formare anche mediante semplici accordi verbali e tuttavia per prassi e per maggior certezza si consiglia sempre e comunque di istituire un asfo in forma scritta con un accordo che poi nella sostanza avrà gli stessi contenuti di quelli di un asfo riconosciuta. Tornando a quest'ultima categoria, cioè alle asfo riconosciute, vediamo ora quali sono gli atti principali che sono richiesti per legge ai fini della loro costituzione. Innanzitutto deve essere redatto e sottoscritto dagli associati un atto costitutivo che recepisce la volontà degli stessi di dare vita all'associazione e ne stabilisce gli aspetti fondanti, ossia come detto la denominazione, la sede, lo scopo e il patrimonio. Accanto all'atto costitutivo occorrerà redigere e sottoscrivere uno statuto che invece disciplina gli aspetti dinamici della vita associativa, ossia le regole di funzionamento e la disciplina dei rapporti associativi nella loro continuità. Oltre alle regole che in via generale disciplinano le associazioni, quali quelle relative ai poteri e alle modalità di funzionamento degli organi associativi, ossia l'assemblea, l'organo di gestione e così via, lo statuto delle asfo deve prevedere anche le regole di ingresso dei nuovi soci, il dovere di conferire a loro volta la gestione dei terreni all'associazione, le regole di recesso dei soci e delle relative tempistiche che devono essere correlate al periodo di conferimento della gestione, i poteri specifici dell'assemblea in relazione alla gestione dei terreni, tra i quali quello di approvare con effetto consultivo o vincolante il piano di gestione ed infine i poteri all'organo di gestione per concludere i contratti per l'affidamento, per la cura o la coltivazione dei terreni per conto dell'associazione. Nelle prossime videopillole parleremo delle regole di gestione di un asfo. Tutte le informazioni di dettaglio le potete trovare nelle linee guida regionali sulle asfo in Regione Lombardia. Le linee guida e le videopillole sono disponibili sul sito di Regione Lombardia, sul sito del progetto Life Climate Positive e sul canale YouTube di Regione Lombardia. In questa slide trovate tutti i partner del progetto Life Climate Positive, progetto cofinanziato dall'Unione Europea e maggiori informazioni le trovate sul sito internet del progetto www.lifeclimatepositive.it che vi ricorda che le foreste sono nostre alleate nella lotta alla crisi climatica e forniscono servizi ecosistemici fondamentali per la terra e per i suoi abitanti. Vi ringrazio per l'attenzione.